Un personaggio enigmatico che vive nei boschi, una leggenda che si è tramandata nel tempo. È dedicato al Mazzarol il nuovo progetto cinematografico del giovane regista bellunese Lorenzo Cassol con la produzione di The Storytellers e Kublai Film. Cambiamento, crescita, evoluzione, il cortometraggio, le cui riprese sono iniziate a dicembre 2023 fra i boschi del Cansiglio e nel comune di Sospirolo, racconta tutto questo mescolando abilmente realtà e fantasia. Mazzarol è prima di tutto qualcosa che mi sono sempre sentito raccontare fin da piccolo. È una leggenda, è un personaggio del bosco che non è proprio così buono, dipende, cambia e bisogna stare molto attenti perché specialmente i bambini se entrano nel bosco e cadono nella sua impronta e rischiano di seguirlo e di perdersi in questo mondo, in questo mondo fantastico. Il cortometraggio è tratto appunto da questa leggenda che aderiva dal territorio bellunese Veneto di appunto di questo personaggio Mazzarol e il nostro obiettivo è quello di portare questa storia finora conosciuta da pochi, farla conoscere al grande pubblico, quindi sia nazionale che internazionale. Secondo le stime il progetto dovrebbe concludersi a maggio, a sostenerlo varie realtà come la Regione Veneto attraverso la Veneto Film Commission, l'Associazione Daphne, il nuovo Imaie, con la partnership del Consorzio di tutela Piavedop e il patrocinio del Ministero della Cultura e delle Dolomiti Bellunesi, patrimonio dell'UNESCO. Tutta la comunità può inoltre sostenere la realizzazione del film attraverso un'apposita piattaforma di crowdfunding. Pensiamo che queste storie, che sono state tramandate da generazione in generazione, siano davvero importanti e siano veramente interessantissime da un punto di vista cinematografico.